amo viaggiare non solo per distrarmi credo di averne diritto e bisogno ma viaggiare amplia gli orizzonti permette di imparare di importare i modelli anche turistici soprattutto turistici virtuosi e non potevo non essere a riccione la cosiddetta perla verde vedete oggi in questo breve reportage voglio farvi vedere come si promuove il turismo come si fa crescere il territorio attraverso il turismo qui signori cari non hanno l'ilva hanno ben altro che porta ben altra salute e ben altra ricchezza rispetto a quella fabbrica della morte ma voglio così anpassani in pochi minuti farvi vedere che cosa è riccione siamo a dicembre ma guardate c'è la destagionalizzazione il turismo non è solo il boom di luglio agosto settembre guardate che meraviglia questi sono questo il lungomare di di riccione e poi ci addentreremo ma guardate per esempio una pista ciclabile guardate una vera pista ciclabile non quelle cacate che abbiamo a taranto quelle cacate che l'amministrazione melucci ha fatto ridicole qui davvero sono piste piste ciclabili vere dove dove le bici passano sono ampie dove la gente va a fare jogging e quant'altro dicevo parlavo di destagionalizzazione siamo a dicembre guardate un po non dico chiacchiere natale in trenino e qui c'è la fermata di questo trenino turistico che ti fa fare il giro di riccione guardate che bella fontana ma voglio farvi gustare riccione beh fa caldo immaginate nella nostra taranto e sono tolto il giubbotto guardate qui sul lungomare ci sono queste postazioni questi questi tavolini in cui tranquillamente ci si può sedere ci si può mangiare qualcosa spazi liberi spazi pubblici e guardate che meraviglia gli stabilimenti balneari lungomare attaccato attaccati gli stabilimenti balneari uno accanto all'alto una serie infinita guardate le cabine e in fondo poi le distese distese di sabbia ma scusate a me viene rabbia ma viene rabbia davvero ma cosa la nostra litoranea ha di inferiore ha di meno rispetto a riccione io mi rivolgo non solo al comune di taranto ma ai comuni rivieraschi dell'area ionica e penso a leporano penso a pulsano penso a lizzano penso a marugio potremmo andare così all'infinito ma perché noi non dobbiamo vivere di queste risorse naturali considerando che non voglio essere di parte ma se permettete il nostro mare di gran lunga migliore rispetto a questo la verità è che qui si sa fare turismo si sa valorizzare quello che che hanno noi invece no purtroppo e apprezzo sono innamorato di queste zone ma provo anche rabbia perché sinceramente le nostre bellezze non sono inferiore ma inferiori ma dobbiamo vedere dobbiamo imparare dobbiamo imparare da questi modelli dobbiamo imparare la ministra le amministrazioni comunali devono avere l'umiltà di mutuare certe esperienze virtuose a riccione esiste la cosiddetta destagionalizzazione del turismo lo abbiamo evidenziato guardate alle mie spalle il palazzo dei congressi di riccione per tutto l'anno eventi congressi meeting ma scusate a taranto non potevamo avere una struttura simile a palazzo degli uffici ha già lì la storia infinita quella storia maledetta quasi più lunghi tempi più lunghi addirittura della sagrada famiglia di barcellona imparate da riccione signori amministratori imparate da questo palazzo dei congressi